La Lazio Lazio, diramata la lista UEFA, Cenani La Lazio sarà impegnata in Europa League, frutto del quinto posto conquistato nello scorso campionato. Nizza, Zulte e Guareggem e Vitesse, questi gli avversari che i sorteggi hanno riservato alla squadra bianco-celeste. Con il calciomercato ormai concluso, e quindi le operazioni in entrata ed in uscita tutte ufficializzate, ecco che la Lazio arresto nota la lista UEFA. Tra i convocati spicca anche il nome di Nani, uno degli ultimi arrivati in casa Lazio, quel top player tanto invocato dall'allenatore Simone Inzaghi per sostituire il partente Keita Balde, passato a rinforzare il Monaco. Niente da fare per gli altri due giovani portoghesi arrivati, ossia il centrocampista Bruno Giordao e l'esterno d'attacco del 2000 Pedro Neto. Con ogni probabilità, i due calciatori appena citati troveranno spazio, almeno inizialmente, nella squadra primavera. In lista, ovviamente, anche i nuovi acquisti Maruzic, Lucas Leiva oltre a talentino externana, Palombi. I bianco-celesti debutteranno il 14 settembre, contro il Vitesse. Questo l'elenco completo. Nani, Basta Duan, Caicedo Corozzo Felipe Salvador, Crecco Lucca, Devrii Stefan, Di Gennaro Davide, Fortuna do Santo Sualace, Gabarron Gil Patricio, Guerrieri Guido, Immobile Ciro, Lukaku Jordan, Lulix Enad, Maruai Adam, Milinkovic Savic Sergei, Murgia Alessandro, Palombi Simone, Parolo Marco, Priragomes Felipe Anderson, Pezzini Leiva Lucas, Quissanga Baro Tolomeo Jacinto. Rado Stefan Daniel, Ramos Marche Luiz Felipe, Romero Alconque Luis Alberto, Stracoscia Thomas, Vargi Ivan. .